Teatro e cinema arrivano due opportunità per i giovani promosse dal comune di Napoli nell'ambito del piano locale giovani che prevede sostegno e contributi economici per progetti artistici e culturali. Col titolo Giugno Giovani saranno emanati due bandi per una produzione teatrale e per la realizzazione di un documentario cinematografico. Abbiamo spezzato dei meccanismi, quei meccanismi che tengono i ragazzi della città in ombra. Abbiamo appena concluso più di un'ora e mezza di riflessione culturale su quello che è il talento, su quello che significa il successo. Una commissione presieduta dall'attore Michele Placido premierà con un finanziamento di 15.000 euro le due idee migliori, selezionate soprattutto in base alla creatività e alla qualità artistica. Una grande occasione data dal comune, mi piace essere testimonial di questa possibilità che un giovane esprime attraverso questo finanziamento un'opera, un video, un'opera cinematografica e perché no anche un'opera teatrale. Mi sento onorato di essere in questa commissione e di dare il mio contributo volontario a questa missione che in qualche modo il comune di Napoli mi affida. L'iniziativa è stata presentata al Teatro Bellini dove Placido ha dialogato a lungo con gli studenti delle accademie teatrali e delle scuole di cinema cittadine. Oggi la notizia straordinaria da parte dei responsabili del teatro e di Daniele Russo di voler inserire quello che sarà lo spettacolo finanziato all'interno della stagione del Teatro Bellini. Ecco questa città si muove, si muove in modo straordinario. Abbiamo riconosciuto a Michele Placido con un dono importante, la sua importante collaborazione. Quando si parla di ragazzi la cosa bella è che nessuno si tira indietro.